Torniamo a parlare un po' dell'aspetto più sportivo, no? Io so che questo film l'ha visto Totti Sì, ormai è uscita questa cosa E' vero, hai detto che l'avete sentito in conferenza stampa Quindi non è un segreto Assolutamente no L'ha visto Totti e mi ha fatto i complimenti Perché ha detto, succede proprio questo Ragazzi vi posso dire una cosa Io non c'ero, me l'hanno raccontata Allora, intanto io spero che Francesco Totti Non se ne abbia male, l'abbiamo raccontata Ormai è uscita, ma era troppa l'emozione Il nostro regista è romano-romanista E proprio quando ho visto che c'era Francesco Totti Non so, credo che sia stata l'emozione più grande di tutta la sua vita Allora Francesco Totti ha detto Ragazzi vi posso dire, posso essere sincero? Pausa Di tutto, è successo Cosa dirà adesso? No, è proprio così Cioè il fatto di raccontare la solitudine di un campione Circondato però da migliaia e migliaia di fan È una cosa molto realistica E giustamente finché non ti fai una tua famiglia Da quella solitudine non sfuggi Però il fatto che un insider, un grande professionista come Francesco Totti Si sia abbandonato alla storia Vuol dire che tutto il contesto calcistico è ricostruito in modo assolutamente realistico Quindi penso che Leonardo D'Agostini Che è appunto il regista del film all'esordio Dopo aver sentito l'opinione di Totti Lui secondo me era già contento così Ha detto a prescindere da come andrà l'incasso Per me è già il mio premio Ho già vinto il mio premio Oscar Il resto della promozione l'ha fatta proprio con il disceso Era già finita Senti parliamo anche della scena che avete girato all'Olimpico Che è una delle scene più belle, più emozionanti Allora tralasciamo l'aspetto burocratico Penso sia stato complicatissimo Io non ne voglio parlare Poi anche Trigoria Perché poi appunto come dicevi giustamente Le scene sono state girate proprio a Trigoria Durante il periodo in cui in estate In cui la Roma non c'era Per creare troppi problemi Tutto semplicissimo La società davvero ci ha aperto le porte Ci ha dato una grandissima disponibilità Lo stadio olimpico è più complicato Anche perché d'estate c'è i concerti L'erba Ci sono tanti fattori che non dipendono Da varie gestioni Scusa ti ho interrotto No 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 Era per dirti l'emozione che hai provato Insomma tu non so se sei una persona che va allo stadio Non lo so Guarda per non essere un tifoso ci vado abbastanza spesso Ah vedi Ma perché poi ne parleremo Eh sì Entrare in uno stadio Poi sai siamo entrati vuoto, deserto Quegli spazi lì vuoti sono E' lì che secondo me ti rendi conto della potenza del luogo Per carità quando è pieno è un boato E' proprio qualcosa di adrenalinico e fisico Ma questi luoghi vuoti In attesa di un evento Che raccoglie così tante persone Sono vuoti spesso La maggior parte del tempo sono vuoti E' proprio come se stessero lì ad aspettare Come sai la rincorsa Quando c'è la risacca dell'onda gigante E' quella roba lì Che la senti come è vertiginosa E poi sì comunque allo stadio ci vado abbastanza spesso Insomma per non essere un tifoso Ci arriviamo Prima ti devo fare un'altra domanda Adesso fremo perché non vedo l'ora di arrivare a questo tema Che avevo parlato prima E rivedrete Stefano Accorsi finalmente anche alla guida di un'auto Come veloce come il vento Insomma lo avete visto tutti quel film Com'è stata l'esperienza insomma di tornare alla guida Quella scena è divertentissima Sei proprio emozionato La ti vedevo felice Sicuramente si torna al discorso delle grandi emozioni Delle grandi scosse adrenaliniche La velocità L'accelerazione Sono cose che ti danno una botta direttamente emotiva Non filtri niente E in quel momento preciso è una cosa bellissima per il mio personaggio E' un po' tornare a delle emozioni brutali della vita Però la cosa divertente è che Se uno non è mai entrato in quel tipo di macchine Come il mio personaggio Già è complicato accenderle Cioè la chiave lo sappiamo Non esiste più ormai da anni Ma se uno non lo sa Cioè ti sfido a dire Ah no devo spingere il tasto start Già è da un'altra parte Non sai dove Infatti mi sono divertito molto a fare quella scena Non hai dovuto recitare quindi Era proprio complicato trovare il tasto Un po' recitato Onestamente essendo appassionato di macchine Più o meno ormai quelle cose le so Però mi sono divertito a fare A recitare la goffagine del mio personaggio in quel momento Ma anche le frecce sono un problema Però Devo dire che è una scena molto liberatoria Come allo stadio Quando a un certo punto c'è un boato incredibile Sono emozioni che contribuiscono A far tornare alla vita il mio personaggio Assolutamente Senti io So che è stato appunto Non è stato facile Però la sensazione che ho avuto io Ai titoli di coda È stato finalmente Un bel film sul calcio È stato complicato però Girarlo vero Ha avuto un processo molto laborioso Soprattutto raccontami in fase di scrittura Il film tra l'altro è stato scritto Da due sceneggiatrici Sì Antonella Lattanzi e Giulia Steigerwald Assieme a Leonardo D'Agostini Che è il regista Più il supporto di Matteo Rovere Che è il produttore Sidney Sibili Con l'India Sì sì È un lavoro in tante mani ecco È stato complicato dico Cioè non è facile Avete fatto un bellissimo film sul calcio Non solo calcio Però le scene del calcio Sono veramente fatte bene Deve essere stato complicato anche Allora i film sullo sport sono Complicatissimi Insidiosi Perché Insidiosi Sai già se racconti uno sport Che nessuno conosce Comunque le scene devi girare bene Sei già un pochino più protetto Il calcio È chiaro che nell'immaginario collettivo Tutti Anche i non tifosi Hanno visto La pubblicità del calcio Con il calciatore a rallenti A 3000 fotogrammi al secondo Con la goccetta di sudore Cioè immagini bellissime In altissima definizione Quindi Già ti confronti con quell'immaginario E poi soprattutto Il calcio ha Seguaci Fan Che Sono fan Da quando sono nati Quindi la passione Che loro ci mettono Durante una partita C'è un carico emotivo bestiale In questo caso Invece C'è stato il fatto di Caricare emotivamente Sui personaggi E sulle aspettative Che noi abbiamo Sui personaggi La partita Il premio in gioco Diciamo E quindi Quando Cristian va a fare una partita Tu speri Che lui Possa cambiare Ecco Ci speri tanto E quindi O soffri O gioisci con lui E poi Tatticamente Questo te lo posso dire Ma indirettamente Me l'hanno detto i produttori Insomma Coinvolgere le squadre È sempre un lavoro abbastanza Complesso e delicato Scusa L'ultima cosa sulla scrittura Dicevi Lì non è stato tanto difficile Lì è stato Un lavoro molto articolato Sulla scrittura Però secondo me È naturale che sia così Cioè Per fare un film Che è una cosa Che costa parecchi soldi Si deve arrivare Il più possibile Con le idee chiare E con una trama Efficace Deve funzionare sulla carta Perché le cose Sul set Non si aggiustano Se hai un problema Le devi aggiustare prima E poi magari sul set Trovi ancora qualcosa O delle soluzioni O anche magari qualcosa Che è sorprendente Però ti devi affidare Alla carta prima Dicevo nel film La cosa bella del film È molto realistico Perché Cristian Ferro Gioca nella Roma Si E si affrontano squadre di serie A Cioè non è che sono squadre inventate Quindi ci sono proprio squadre La Samp La Samp Sì ce ne sono diverse Sì 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 Senti Una domanda Tu nel film ovviamente Ti hai molti consigli a Cristian Essendo un professore eccetera Ma tu nella tua professione Ti piace ricevere consigli O dare consigli Ma guarda Io non sono uno Che da tanti consigli Qualche volta mi capita Ma Cioè Quelli che cominciano a dare Troppi consigli Secondo me Sono Bisogna stare attenti Perché Vuol dire che uno pensa Di essere arrivato E di non aver più niente da imparare E che può solo Elargire Consigli Qualche consiglio Ci sta ogni tanto E mi piace anche Qualche consiglio Riceverlo Però tendenzialmente Mi piace quando c'è Uno scambio E si lasciano succedere Delle cose sorprendenti Ecco È la cosa migliore È la cosa più viva Che possa succedere Da ragazzo tu Avevi in camera Un poster di un giocatore Uno sportivo In generale No Io avevo Ti piaceva una La foto di Paul Newman E di Clint Eastwood Perfetto Ecco Io Ho sempre pensato che Non avevo Una fede calcistica Perché ho sempre avuto Una fede cinematografica Io fin da piccolo Piangevo Se non mi portavano al cinema Avevo Questa enciclopedia del cinema Che per caso Mio padre Aveva raccolto In fascicoli E rilegato E io proprio C'avevo il santino Di Paul Newman Clint Eastwood Sergio Leone Cioè io tutto il cinema Robert De Niro Tutto il cinema Che amavo Me lo studiavo Nei minimi dettagli Allora tu non avevi Fede calcistica Ma la fede calcistica Te la sei ritrovata in casa Praticamente Arriviamo al dunque Arriviamo al nocciolo Della questione Allora praticamente La tua famiglia acquisita No? È simpatizzante Terista Simpatizzante No sono proprio Sfegatati Sfegatati tifosi Da tre generazioni Come questa cosa Influenza il tuo essere Invece Super partes Non lo sei più oramai No Non è possibile Prova a dire che sei del Milano Della Juventus Hai provato? No ma Anche perché Che sfido Allora c'è tutto un codice Come ben sai sul calcio Cioè tu puoi scherzare Anche molto duramente Ma se ci capisci di calcio Arriva il neofita Che fa la battuta Sbaglia la battuta Non ride nessuno Fa incazzare tutti Cioè Quindi devi stare molto attento Però a me fa molto ridere Cioè anche per esempio Quando uno dice Ah no ma non puoi gioire Se perde l'altra squadra Non è sportivo E io ho capito invece Tardi nella mia vita Cosa vuol dire essere tifoso Quel tipo di sportività Non la consideri proprio Cioè se viene dato Un rigore contro la squadra Che odi Al 92esimo E magari il rigore non c'era Ma quelli fanno gol E vincono Sono ancora più felici Ti faccio un esempio Ieri Adesso per non convolgere La tua famiglia Che non mi pare il caso Però diciamo che ieri Ad esempio la Juventus È stata eliminata Dalla Champions League E a Napoli Hanno fatto i fuochi d'artificio Quindi insomma Diciamo che l'Italia Non è proprio la patria Della sportività Per eccellenza Però magari è anche questo Il bello del calcio Per carità Ma sì È bello che secondo me Uno possa Dirsi queste cose Scherzare su queste cose L'importante è che Non si arrivi alla violenza Cioè quello Però insomma Alla fine Ogni tanto ci provo A fare due chiacchiere Mi imparo i nomi dei giocatori Così Alle volte vado anche Abbastanza bene Poi magari dici un nome E sbagli una consonante È finita E hai distrutto Tutto quello che hai fatto prima Quindi io mi metto Proprio in posizione D'ascolto Molto attento Ascolto E capisco anche Però poi Dimentico Stefano Ne sei uscito alla grande Te lo posso dire Allora ricordiamo L'appuntamento Nei cinema italiani Dal 18 aprile Con Il Campione Un film veramente Da non perdere Anche e soprattutto Ma non solo Soprattutto Perché insomma Avrete la possibilità Di vedere un grandissimo Stefano Accorsi Ti ringrazio Grazie mille Di essere stato nostro ospite E alla prossima Grazie Un saluto a tutti Grazie a te Grazie a te